benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video un video di nell'arte su tip come vedete io ho già preparato l'unghia e ho usato il poison black di passione unghie due passate e dopo ho passato cioè dopo aver catalizzato il nero ovviamente ho passato questo top coat opaco per andare a fare adesso il disegno e andremo a realizzare un fiore pare assomia molto a una margherita prima vado a passare con il poor white col bianco e poi con un celestino così avrà un po di riflessi tra bianco e celeste tipo sfumato e poi vado a passare il bronzo e fresh in mezzo l'intel del pallino del fiore insomma in mezzo e niente io vi lascio al tutorial di questa nell'arte e ci vediamo dopo a fine ciao 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 eccomi qua allora questa quella nell'arte è finita e sono soddisfatta mi piace molto come è venuto questo fiore dopo cui ho fatto qualche altro fiorellino un fiore a metà diciamo ecco questo bronzo flash in mezzo è proprio stupendo tanto mi piace veramente tanto come è venuto poi ho messo qualcosa di bianco così tipo dei filetti diciamo che uniscono i due fiori to una roba del genere e niente io spero che anche a voi vi piace questa nell'arte se è stato così mettete pollice in su se volete sotto il video commentatemi e noi ci vediamo presto al prossimo video un bacio e alla prossima